Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tweet bomba di Mamma Rockstar Sappiamo il tema del DLC Ma al momento non abbiamo ancora la data d'uscita Non perdiamoci in chiacchiere Vi mostro adesso il tweet di Mamma Rockstar E vi leggo la traduzione In questo DLC raga saremo dei vigilanti Ma comunque dopo ne parliamo Vi leggo adesso la traduzione In arrivo quest'estate su GTA Online Un nuovo aggiornamento ricco di azione Con il proprio marchio di giustizia vigilante In più nuovi dispatch work per Vincent Aggiornamenti al creatore e altro ancora Che dire raga, sarà un altro DLC a tema sbirro Da quello che ci ha detto Mamma Rockstar Saremo appunto questi vigilanti Sappiamo che il DLC è grande Ma i tweet non sono finiti Perché oltre Mamma Rockstar Ha twittato anche GTA Series Videos E nei suoi tweet ci dà altre informazioni Ora vi mostro i tweet e vi leggo la traduzione Il nuovo aggiornamento di GTA Online Introduce anche nuove attività Che coinvolgono Vincent Effenburger Praticamente il nostro Vincent sbirro Che ha bisogno di assistenza Per affermare la sua autorità Senza supervisione ufficiale Salta a bordo della tua Chrysler potenziata E intraprendi varie attività Clandestine in tutta Los Santos Quindi saremo degli sbirri corrotti? Boh raga, sembrerebbe così da questo tweet Ma questo che saremo sbirri corrotti Raga è solo un mio pensiero È la prima cosa che mi è venuto in mente Guardando questi tweet Queste sono due macchine nuove di questo DLC Perché sono state pubblicate in questo post Come immagine Ma non è finita Perché GTA Series Videos ci fa vedere Un altro nuovo veicolo E ci dà altre informazioni E adesso vi faccio vedere il tweet E vi leggo la traduzione L'aggiornamento estivo di GTA Online Porta anche una sezione di nuovi veicoli Maggiori vincite per varie modalità E missioni tra cui taxi work Gare a ruote scoperte E operation paper trail Insieme a nuovi strumenti E oggetti di scena Per creare gare di drift E drag personalizzate nel creatore Quindi raga Arriveranno altri nuovi veicoli Ci saranno nuove opzioni Per la modalità creatore Aumenteranno i guadagni Di alcune attività E sembrerebbe un'ottima cosa Ma chiaramente quando esce un DLC nuovo Chi se ne frega Delle vecchie attività O no raga L'unica cosa però Non è ancora certa La data di uscita Come vi avevo detto prima Tez non era sicuro Che arrivasse questo mese Ma c'è un tweet Di Central Gaming App Che ci fa sapere Che potrebbe arrivare Il mese prossimo Cioè nel mese di luglio Come al solito raga La data di uscita Non è stata Confermata da Rockstar Quindi dovremo Aspettare lei Che ci dita Che ci dica La data di uscita Ufficiale Ma comunque Sappiamo che sarà Questo aggiornamento Su cacciatori di taglie Sbirri corrotti Adesso non so cosa sarà Ma sembrerebbe Promettere bene Altro tweet Che è arrivato È una cosa Di cui vi ho già parlato Un mese fa Perché l'unica notizia certa Era l'arrivo Di questa macchina In questo DLC E è confermato Che i membri GTA Plus Ma attenzione Solo PS5 Xbox Series X E Series S Che hanno l'abbonamento GTA Plus Riceveranno Il regalo Questa macchina Insieme Chiaramente Al solito milione E tutti i premi Che garantisce Questo abbonamento Che dire raga Sono veramente Contento Che finalmente Abbiamo notizie Ufficiali Su questo DLC Ha twittato Rockstar Ha twittato GTA Series Videos Il tema Del DLC È questo Per come ho capito Io saremo Dei cacciatori Di taglie Barra sbirri Corrotti Non lo so Sono ancora più In hype Adesso che so Di cosa tratta Questo DLC Guardiamo più nel dettaglio Le foto Che sono trappelate E come potete vedere Qui abbiamo Dei personaggi Forse Con una nuova pistola Ma raga Prendetemi Con le pinze E come potete vedere Dietro Abbiamo una cell Quindi sicuramente Dovremo andare A prendere Qualche ricercato Io spero Che anche Nella macchina Della polizia Mettono le missioni Da ricercati Un po' Come nei vecchi GTA Ma questo È solo Il mio pensiero Per quanto riguarda Le altre due foto Trappelate Abbiamo solo Dei veicoli Ma possiamo vedere Che sono Dei nuovi veicoli Almeno Credo A me Sembrano nuovi Ma come sapete Non sono un grande Esperto di macchine In GTA Online Qui siamo fuori Dall'autoraduno E poi abbiamo Quest'altra macchina Dentro Al garage Del GTA Plus Quindi credo Ma spero di no Che non avremo Un nuovo garage Magari nel nuovo business E questo sarebbe Veramente un problema Raga Perché ho anche Il garage Da 50 posti Pieno Ma questi Sono affari miei Problemi miei Non c'entra con voi Un'altra cosa Che mi sono dimenticato Di dirvi Sulla macchina Ottenibile Con il GTA Plus È che questa macchina Chi ha il GTA Plus La riceverà Una settimana prima Rispetto Agli altri giocatori C'è anche Un'altra novità Su una vendita Esistente Del bunker La vendita Del Dune Fab D'ora in poi Potrà essere Fatta in solo Vi mostro adesso Il tweet di Tez E vi leggo la traduzione Oltre a questa cosa Ci sarà anche Un aumento Del timer Delle vendite Ma chi se ne frega Tanto la merce Del bunker Ora che è piena Passano diverse ore Bisognerà capire Di quanto aumenta Questo timer Ma sarà un problema Che avremo All'uscita Del DLC Comunque Ha aumentato Il timer Delle missioni Di vendita Per le missioni Di vendita Dei motociclisti E di traffico D'armi Cioè il bunker La missione Di vendita Traffico d'armi Col Dune Fab Ora può essere Giocabile In solitaria Ed è vero Un'ottima cosa Perché quella vendita Col Dune Fab È veramente Odiosa Vi ripeto Questa cosa Perché so già Che ci sarà Qualcuno Che la scrive Nei commenti La data Precisa Di uscita Ancora Non si sa Sappiamo però Che uscirà A luglio Non appena Si saprà La data Di uscita Ufficiale Ve lo farò sapere Tramite i miei social Con un video Eccetera Eccetera Raga Siamo giunti Alla fine Di questo video Purtroppo Io Tra poco Devo uscire Perché ho delle cose Da fare E non posso Aspettare Tutti i tweet Se arriveranno Altre notizie Importanti Vi terrò Aggiornati Sui miei social E vi farò Un commento Sotto a questo video E lo fisserò In alto Ora Passo la palla A voi Nei commenti Fatemi sapere Se vi piace Questo tema Del DLC Fatemi sapere Se vi aspettavate Qualcosa del genere Fatemi sapere Ogni cosa Io devo ammettere Che sono Parecchio E naip Raga Un grazie di cuore A tutti Del supporto E ci sentiamo Al prossimo video Ciao ragazzi